Con quasi 20 giorni d'anticipo è partita la raccolta dell'uva nel Piacentino. Sono gli effetti della siccità e dell'ondata di calore africana che si stanno facendo sentire anche sulla campagna vitivinicola. In alcune cantine della Val Nure e della Valdarda la vendemmia è cominciata oggi, ha spiegato il direttore di Coldiretti Piacenza Giovanni Cremonesi. In particolare è iniziata la raccolta di alcuni spumanti, mentre per le uve rosse i viticoltori cercheranno di aspettare alla fine di agosto prima di procedere. Il beneficio di questa stagione asciutta sarà un aumento della concentrazione zuccherina e di conseguenza del grado alcolico, ha proseguito Cremonesi, a discapito della quantità. Una situazione climatica che oltre alle difficoltà di coltivazione per le carenze idriche, in modo particolare in Val Trebbia e in Valdarda, è stata la causa di danni alle produzioni provocate dai nubi fragi e dalla violenta grandinata che si è abbattuta sabato scorso nelle zone di pianura, in particolare a Ponte Nure e Mucinasso, danni sui quali si sono concentrati oggi i Tg delle re di Mediaset. Un clima, ha concluso Cremonesi, che è andato tutto a rovescio, tra carenza idrica, bombe d'acqua e temperature estreme. Telecamere nazionali, in questo caso quelle della RAI, puntate anche sulla diga di Mignano, dove il livello idrometrico ha raggiunto quota 310 metri e il volume d'acqua contenuta è sceso a 395 mila metri cubi. Dopo un'annata come questa, non è più possibile continuare a parlare di emergenza, ha spiegato Marco Crotti, presidente di Coldiretti Piacenza. Dobbiamo essere capaci di prevenire realizzando gli interventi per accumulare le acque che il cielo ci manda nei periodi di pioggia, ha concluso. Ora, per l'agricoltura e per tutto l'indotto, la situazione è drammatica.